In questo video vedremo come aggiornare i driver audio del vostro pc Per farlo andate in basso a sinistra, andate su computer oppure cliccate in qualsiasi cartella e poi troverete computer qui Mentre su Windows 10 troverete questo pc Quindi andate sopra con il mouse e cliccate con il tasto a destra e andate su proprietà Sul proprietà in cima troverete gestisci dispositivi Quindi cliccate su gestisci dispositivi e cercate controlli audio, controller audio, videogiochi In questo caso andate su questi driver che volete aggiornare Quindi direi di aggiornare questo e aggiornare questo Cliccate sul primo driver, andate da generale, passate dal driver e fate aggiorna driver Poi potete fare cercare autonomicamente un driver aggiornato, lui lo cercherà in rete L'ultimo driver disponibile sempre di questo modello Quindi fate così e lui ricercherà il driver Se quello che avete installato è l'ultimo disponibile Ok, infatti è appropriato il dispositivo che l'ho installato Mentre se non è disponibile vi consiglierà di installare un nuovo driver Quindi per questo video è tutto e alla prossima